Salve a tutti. In questo video vorrei parlarvi di nuovo dei testimoni di Geova e delle date sbagliate riguardo i personaggi biblici e le profezie bibliche. Ma prima di iniziare, anche questa volta, sono costretto a ribadire di guardare il video fino alla fine, lasciare like, condividere a più persone possibile e iscrivervi. Quando i testimoni di Geova parlano dell'attendibilità della Bibbia, fra le tante ragioni, indicano il fatto che ogni profezia biblica si sarebbe adempiuta. Probabilmente conoscete i video di Soccari Ared riguardo al fatto che secondo i TDG Gerusalemme sarebbero state distrutte nel 607 e non nel 587, come dicono gli storici. Questo fa crollare tutta la cronologia sul 1914 e la relativa profezia. Io in passato ho fatto anche un video dove spiego che Gesù morì nel 30 d.C. e non nel 33 come dicono i TDG, per cui cade anche la loro interpretazione della profezia delle 70 settimane di Isaia, perché secondo loro l'ultima di queste settimane di anni inizierebbe nel 29 d.C., quando Gesù avrebbe iniziato la predicazione, che sarebbe durata circa 3 anni, fino al 33, ma se secondo gli storici muore il 30 allora i conti non tornano. Per il resto, non essendo un'esegeta, non saprei come commentare questa presunta profezia. Un'altra delle profezie preferite dai TDG è quella di Daniele sull'ascesa e la caduta dei vari imperi mondiali. La profezia parla della successione dei seguenti imperi. Babilonese, contemporaneo a Daniele, quello persiano, quello macedone, quello romano, e uno successivo a quello romano, che per i TDG sarebbe l'imperialismo americano contemporaneo. Loro sostengono che dal momento in cui Daniele sarebbe vissuto al tempo dell'esilio in Babilonia, allora Daniele non avrebbe potuto sapere nulla degli imperi successivi a quello babilonese, quindi per i TDG si tratterebbe di una vera e propria profezia. Però secondo gli studiosi il libro di Daniele sarebbe stato completato nell'Ii secolo avanti Cristo, proprio durante il regno macedone, quindi avrebbe potuto tranquillamente scrivere dell'impero persiano e di quello di Alessandro Magno. Nella migliore delle ipotesi quindi l'autore del libro di Daniele avrebbe predetto soltanto l'impero romano e quello americano. Almeno parte delle cosiddette profezie bibliche possono essere smontate sapendo la data di composizione dei testi biblici, Ma soprattutto, chi ci garantisce che gli imperi di cui parla Daniele siano proprio quelli? È vero che anticamente ci fu prima l'impero babilonese, poi quello persiano, poi quello macedone e poi quello romano, ma dopo quest'ultimo? Perché credere che il quinto impero sia quello americano contemporaneo? Ce ne sono stati abizzefe di imperi nella storia, dopo quello romano. Perché non credere che fosse quello di Carlo Magno, o la Chiesa Cattolica, visto che loro la odiano, oppure quello bizantino, oppure quello di Gengis Khan, l'impero più vasto della storia umana? Perché aspettare duemila anni per vedere sorgere un impero? Il testo biblico non ci dà alcuna indicazione su quali siano questi imperi, quindi qualunque impero sorto dopo Daniele sarebbe stato identificato con uno di quei cinque, a prescindere dalla data di composizione dell'opera, ma soprattutto non dice che dovremmo aspettare duemila anni per vedere sorgere l'ultimo impero, perché Daniele 2 a 44 dice che al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto, eccetera per cui mi pare di capire che questa presunta profezia sia carta straccia per come le intendono i TDG. Per concludere, un'altra profezia su cui fanno leva i TDG è quella della distruzione del Tempio di Gerusalemme, avvenuta nel 70, ma profetizzata da Gesù nei Vangeli di Marco e di Matteo, Secondo la maggior parte degli studiosi il Vangelo di Marco fu il primo Vangelo, ma secondo i TDG il Vangelo di Matteo fu scritto circa nel 41, quindi certamente la distruzione del Tempio sarebbe stata predetta dai Vangeli sinottici, è dibattuto se il Vangelo di Marco sia stato scritto prima o dopo 70 d.C., quindi prima della distruzione del Tempio di Gerusalemme, in Marco 13 e 14, 25, si potrebbe trovare questa profezia. Il problema è proprio questo. Il fatto che il testo sembra profetizzare un evento fa pensare agli storici che l'autore conoscesse già l'evento, in quanto già è accaduto. La questione è aperta e il dibattito non ha dato alcuna conclusione. La cosa interessante è che un frammento di Marco sarebbe stato ritrovato a Cumeran, oppure dei riferimenti sarebbero presenti in Petronio, che scrisse il satiricone il 64, per cui almeno una versione non definitiva del Vangelo sarebbe circolata prima del 70, ma non si tratta dello stesso brano, per cui non possiamo sapere se la profezia della distruzione del Tempio era presente in quella versione oppure no. Il fatto è che Marco forse si sarebbe basato su un'altra fonte o su fonti orali, alcuni arrivano a pensare che questi prototesti eramaici o ebraici risalirebbero addirittura prima del 50, ma anche se fosse non possiamo sapere con certezza cosa ci fosse scritto di preciso, quindi non sappiamo se in origine ci sarebbe stata questa profezia o no. Cioè, i testi antichi venivano scritti, rivisti anche fino alla morte dell'autore, non c'era una pubblicazione finale, i testi venivano copiati e fatti circolare, o tra discepoli e amici, oppure venduti come si vendono i libri oggi, ma quasi sempre esistevano molte versioni dello stesso testo. E spessissimo allievi e discepoli o collaboratori degli autori davano il loro contributo. Per questo quando si parla dei testi neotestamentari si parla di scuola paolina, scuola giovannea, eccetera è difficile credere che quei testi risalgano interamente a un unico autore. Per cui, come per la maggior parte dei testi antichi, non è sufficiente sapere che un frammento di un testo risalga a una data per dimostrare che un'altra parte del testo risalga alla stessa data. Riguardo Marco quindi non ho alcuna risposta a riguardo, ma qui è abbastanza delicato cercare di stabilire se è una profezia o no, perché lo scritto è vicino ai fatti, per cui un anno in più o in meno può fare la differenza, ed è proprio questo fatto narrato nel Vangelo a far pensare che in realtà l'autore conoscesse già questo avvenimento, per questo è davvero difficile stabilire se nella Bibbia ci sono profezie o no. Sulle profezie sulla venuta di Gesù spero di tornarci presto, perché è un discorso molto interessante. Per il momento ho anche parlato troppo. Alla prossima!